Più donne, più giovani e in grado di rappresentare più competenze professionali. Così il bando pubblicato oggi sul sito del Comune di Cremona prefigura i componenti della nuova commissione paesaggio destinata ad un vistoso rinnovamento. Fino al 24 febbraio potranno essere presentate domande da parte di candidati con i requisiti stabiliti al punto 5 del testo firmato dal dirigente dell'area urbanistica Marco Masserdotti. Il bando stabilisce su precisa indicazione della Giunta Galimberti di incentivare la partecipazione di giovani. Quindi verrà favorita la partecipazione di almeno due candidati con età inferiore ai 40 anni. I componenti resteranno sei in tutto e saranno scelti dalla Giunta che valuterà la rosa di nomi proposti dalla commissione tecnica formata da quattro funzionari del Comune. Marco Pagliarini, lo stesso Marco Masserdotti, Marco Cerri e Achille Meazzi. Entrano le quote rosa senza obbligo. Dovrà essere considerata la parità di genere, recita il testo. Il bando non equivale ad una defenestrazione dei componenti attuali. È possibile la conferma fino però a due mandati. Di conseguenza il presidente attuale Massimo Terzi, che ha svolto un solo mandato in quattro degli ultimi cinque anni, se presenterà la propria candidatura, potrebbe essere confermato. I nuovi commissari rappresenteranno variegate professionalità. Le lauree e i diplomi previsti sono più di 20. Pochi comuni si sono dotati di questo organo di tutela ambientale ed urbanistica, che ha bisogno dell'autorizzazione della regione. In provincia, Ricenenco ha avuto il via libera a nominare la commissione in forma associata con il Parco del Serio.